ciao bambini e bambine ciao a tutti eccoci prontissimi per una nuova puntata di a scuola d'italiano con lo zecchino d'oro sono così affezionato a questo programma ormai riesco sempre a imparare cose che prima non conoscevo canto a squarciagola e mi diverto a incontrare a distanza i miei amici nel mondo posso dire che questo studio è un po la mia casa chissà di cosa parleremo oggi c'è qualcuno che vuole scoprirlo con me per mille carote ci vedo doppio o siete davvero in due ditemi un po come vi chiamate io sono giorgia e io sono marco ciao ragazzi direi che siamo pronti a cominciare la lezione di oggi suoniamo la campanella ok che la lezione abbia inizio tu marco quanti anni hai nove o dieci no io ho quattro come si fa quattro con le mani wow tu invece giorgia io ho 11 anni avrei bisogno di un dito in più ottimo una coppia ben assortita direi e abitate tutti e bologna giusto sì sì raccontatevi un po della vostra casa com'è la mia casa è luminosa è spaziosa ognuno ha la sua camera e infatti ci divertiamo anche a stare insieme è accogliente e mi far stare bene anche quando c'è il brutto tempo wow ottimo giorgia e tu marco ce l'hai una casetta sì è bella sì anch'io una casa lo sai e la mia casetta si chiama stalla lo so e come le vostre case è davvero un posto speciale sappiamo anche una canzone che parla proprio di questo ma davvero una canzone dello zecchino d'oro magari sì se intitola la mia casa allora devo assolutamente ascoltarla siete pronti sì musica per le mie orecchie la mia casa non è mica tanto grande su di lei c'è il sole che risplende anche quando piove a catinelle di notte ha tante stelle che la vengono a trovare sai perché la mia casa fa speciale ed è come piace a me la mia casa ha davanti un bel vialetto un comignolo col fumo sopra il tetto un balcone di fiori di giardino che si aprono al mattino rallegrando la giornata sai perché la mia casa è colorata ed è come piace a me ed ognuno ha la sua casa ogni casa il suo bambino come un nido sopra un ramo da riparo a un uccellino che tu viva in un castello o magari in ogni clou una casa è la tua casa bravissima Giorgia e bravissimo anche Marco Marco è molto bello il verso che hai cantato me lo ripeti? la mia casa è un po' speciale ed è come piace a me oh che bel pensiero Giorgia com'è la tua casa? è un po' speciale? certo Nunu la mia casa è il posto che amo più al mondo anche lì c'è un comignolo? che strana parola certo e spesso si avvicinano degli uccellini invece dal balcone cosa vedi? vedo il giardino con dei fiori profumati è meraviglioso eh ci credo una casa accogliente e speciale vero? proprio così non è un castello ma noi ci stiamo benissimo certo perché è il luogo degli affetti e poi quando in forno c'è una buona crostata che cuoce ah quel profumino di buono nell'aria è vero è il mondo dove il mio cuore è felice e anche il mio sarà felice quando assaggerò la vostra crostata senti la preparate con la confettura di carote? eh no di solito la facciamo di albicocche nessun problema mi fa bene lo stesso io non lo so e allora sentimi prima di assaggiare la crostata a casa di Giorgia conosciamo uno dei tanti 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 amici che ci seguono da tutto il mondo Marco e Giorgia capito dove siamo? riconoscete la bandiera? Argentina Argentina? vediamo se hai fatto giusto con la nostra mano che cancella cancella vediamo un po' se hai fatto giusto Argentina bravissimo e allora andiamo tutti insieme in Argentina virtualmente ovviamente per vedere se anche là ci sono i due nostri amici che parleranno con noi c'è qualcuno di là? ciao Nunu si siamo proprio in Argentina in Avellaneda di Santa Fe io sono Maria Vittoria ho 9 anni e mi piace cantare io sono Joaquin ho 11 anni e mi piace suonare la chitarra non so se lo avete già capito ma siamo fratello e sorella anche noi vorremmo raccontarvi di una casa molto speciale una grande casa sono proprio curioso certamente sarà una storia tutta da scoprire guardiamo subito il video che avete preparato per noi questo è il Giotto Fulano la casa di tutti i discendenti italiani di Avellaneda la nostra città è stata fondata tanti tanti anni fa da persone che avevano votato da Fiori qui si studia l'italiano si fanno delle fesse è come stare in una casa con tanti amici sapete che noi abbiamo e anche una sorella più grande si chiama Grande e studia in Italia proprio Friuli gli battiamo un grande abbraccio ciao Cade che storia interessante ragazzi una città fondata da immigrati friulani nel posto in cui tanti anni fa hanno messo nuove radici ed è diventato la loro nuova casa accogliente e a proposito di casa che ne dite di riascoltare la nostra canzone di oggi? so che voi due Maria Vittoria e Joaquin la eseguirete in una forma molto molto speciale guardiamo subito il video che avete preparato sarà certamente Musica per le mie orecchie La mia casa non è mica tanto grande su di lei c'è il sole che risplende anche quando piove a catinelle di notte a tante stelle che la vengono a trovare sai perché? La mia casa è un po' speciale ed è come piace a me Musica per le mie orecchie La mia casa ha davanti un bel vialetto un comigliolo col fumo sopra il tetto un balcone di fiori di giardino che si aprono al mattino rallegrando la giornata sai perché? La mia casa è colorata ed è come piace a me ed ognuno ha la sua casa ogni casa è il suo bambino come un nido sopra un ramo da riparo a un uccellino che tu viva in un castello o magari in un igloo una casa è la tua casa quando dentro ci sei tu Ragazzi, vi è piaciuta questa canzone? Molto! Sì, sono stati bravissimi! C'è qualcosa che volete chiedere a Maria Vittoria e Joachim? Qual è la vostra parola preferita in italiano? La mia parola preferita è grazie perché è una parola magica che dobbiamo sempre dire a tutti ringraziare è importante La mia parola preferita è sogno perché va verso l'infinito E allora vi salutiamo proprio con la vostra parola preferita Grazie! È stato bello conoscervi Un saluto a voi alla vostra famiglia e alla vostra bella città Ciao! Ciao! Grazie! E ciao! E da Vejeneda a Beirut da Lima a Sydney da Marrakesh a Manila ci salutiamo tutti con il saluto più bello del mondo Ciao amico! Ciao amico Ciao 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 amico Ciao 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 Se non dici con il cuore vuole dire affetto amore dimmi ciao dimmi ciao Ciao amico ciao 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 amico ciao 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 Se non dici con speranza vuole dire fra villanza dimmi ciao ehi ti aspetto ciao 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 ciao